Il referendum è stato sostanzialmente annullato dal voto di Ortignano, però lei come sindaco ha fatto una scelta forte, importante? Sì, credo anche dovuta a livello sia amministrativo che morale, visto anche l'entità per cui ha vinto il no, mi sembrava scontato e ripeto, un impegno che ho avuto nei confronti dei miei cittadini di dire basta a questa esperienza, nel senso che l'opportunità che era appaventata con questa fusione non l'hanno recepita i miei cittadini, quindi prendo cognizione di questo e mi dimetto. Di che cosa hanno avuto paura? Probabilmente devo dare anche onestamente un valore dovuto al comitato del no perché hanno lavorato capillarmente diffondendo, se mi permette, anche molte falsità, però la realtà è questa, nel senso che probabilmente ha inciso molto la piccolezza del comune, l'entità piccola di Ortignano ed ha veicolato molto la tematica di essere asseverati o dannessi al comune più grande, dove invece non hanno capito che la risorsa era proprio quella, che il piccolo comune doveva aggregarsi all'uno più grande. In Italia non si dimette mai nessuno, quindi perché lei ha fatto questa scelta così? Sì, insomma, comunque il suo comune andrà al voto, ci sarebbe andato se il referendum fosse passato, ma a questo punto ci andrà a comune? Assolutamente sì, sì, mi è stata posta da ben diversi questa domanda, nel senso che io, essendo anche l'unico comune insieme a Montemignaio sfalsato con le amministrative in Casentino, avevo ancora due anni e mezzo di amministrative di fronte a me e questo ha inciso molto perché la cosa è stata ovviamente ponderata da tempo, non è che sia stata una temporaneità dell'ultimo minuto e dover amministrare per altri due anni e mezzo un comune come Ortegnano Raggiolo con le tematiche che noi avevamo, con gli obiettivi che avevamo, mi è mancato veramente il coraggio di dire alla mia gente guardate andiamo avanti così con le nostre piccole risorse perché è troppo il tempo che avevo ancora davanti. Quindi, insomma, Ortegnano andrà al voto, però questo comune unico che spesso molti invocano, insomma, nel Casentino non sa da fare perché questo è il secondo referendum che viene, insomma, annullato. Ed è questo il cruce più grosso, onestamente, che posso dire, o lo dico serenamente, nel senso che la nostra mission, forse la principale, era quella di veicolare questo messaggio a tutti i casentinesi, non soltanto a me, agli ortegnanesi e a quelli di Bibiena, ma portarsi che il processo venga ripreso più avanti, credo purtroppo molto più avanti perché nell'immediato non vedo sbocchi di queste prospettive, però ecco, la missione era veramente questa, fare una svolta epocale in Casentino non ci siamo riusciti.